Si è risolto con un nuovo nulla di fatto il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico di stamane a Roma. Nessuna ripresa della produzione di film di polipropilene al momento per lo stabilimento di Battipaglia nella Treofan Italy S.P.A. Tutto rinviato insomma all'appuntamento di giovedì 24 gennaio sempre nella capitale dove la Gindal, il colosso indiano che ha acquisito la multinazionale, è chiamata a presentare il piano industriale per effettivamente fornire le indicazioni sul destino degli operatori battipagliesi che intanto proseguiranno il presidio permanente attivo dinanzi l'impresa con sede in Viale delle Industrie dal 21 di dicembre. Stamane nessun rappresentante della Gindal era presente fisicamente a Roma per il gruppo in videoconferenza e il CFO di Pak Jain. Al tavolo con le organizzazioni sindacali e le RSU degli stabilimenti di Battipagli Eterni presenti una funzionaria del Mise Chiara Cherubini e il vice capo di gabinetto del ministro Luigi Di Maio, Giorgio Sorial. Per quanto riguarda le questioni legate alla vendita del gruppo Treofan alla Gindal sulla quale i sindacati hanno chiesto di fare luce, il Ministero dello Sviluppo Economico ha assicurato che sta compiendo le verifiche del caso, ma il futuro dei dipendenti battipagliesi resta però nella più totale incertezza.